Il momento tanto atteso per ogni fan di Dragon Ball Legends è finalmente giunto, siamo all'anniversario e chiaramente, come tutti credo già sappiate, sono stati annunciati nuovi personaggi, tra cui, chiaramente, il nuovissimo Goku Ultraistinto completo. C'è anche un Vegeta trasformabile in Super Saiyan Blue partendo da Super Saiyan e giusto per vedere la Z-Power List abbiamo qui a disposizione un bel po' di cosucce. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate in generale proprio del banner e soprattutto anche dei due personaggi, se li avete trovati, se li desiderate e così via. Domanda piuttosto banale l'ultima, ma direi di partire. Mi raccomando, un pollice in su, ora assolutamente. Io sono partito con circa 46.000 Chrono Crystals. Ci tenevo un botto ad arrivare a 50.000, però ragazzi, ci sono gli impegni e tante altre cose, non sono riuscito ad arrivare ai 50.000, che era l'obiettivo che avevo per quanto riguarda quest'anniversario. Però vabbè, diciamo che comunque siamo messi bene. Attenzione perché il primissimo Freysa viene totalmente distrutto, cancellato dallo spazio e dalla terra. Sono curioso un attimino anche di sapere se effettivamente questa per me sarà una buona giornata, una bella cosa fortunata, una cosa fatta bene. Legends Limited! No, Waiju, non ci posso credere. I rates erano un po' alti. Ma non è possibile, Waiju. Io mi potrei fermare qua. Waiju, vi giuro, non è possibile. Ma com'è possibile, Waiju? Goku, ultraistinto, completo, in 300 cronocrystals. Joseph Gaiman, direi che la fortuna è tornata. E io mo' che dovrei fare? Dovrei mandare la foto nel gruppo con Tube Blazzi. Però, però no, però no. Gli lascio pensare che sono stati fortunati anche loro. Poi arriveranno video anche con loro riguardo all'anniversario. Però, Waiju, eccolo qua. Non c'è trucche, non c'è inganno, eh? Perché, ecco qua, clicco. Eh, la schermata è questa, come potete vedere. Waiju, non ci posso credere. Io mo' mi devo fare degli screen, devo fare delle cose, perché è roba spaziale. 300 cronocrystals. Ecco qua il personaggio per voi. Ecco qua, direttamente a tre stelle. Veramente top! Ma com'è possibile? Io non riesco a festeggiare o a fare urli, Waiju, perché io mi sono svegliato un quarto d'ora fa. Sono le 8 di mattina. Quindi non sono... Cioè, non ero nemmeno pronto. Speravo di... Cioè, credevo di riuscire a trovarlo nel giro di 2-3 video, minimo. Invece vado avanti, vado avanti, perché, ragazzi, a questo punto io credo di avere la possibilità... Ma ancora? Ma scusate, ma i rates di quanto erano alti in più? Perché io ho dato uno sguardo proprio velocissimo perché volevo pullare. Però, a questo punto, incomincio a pensare che... Quasi, quasi, i rates siano così alti che mostro Goku Ultra Instinto e lo buttano a pre... Broly Animation! Ma così, ma... Ma scusa, ma... Ma è normale tutto questo? Io ho visto che i rates erano più alti. 20% di possibilità in più per avere la sparchi. Ma qua ho ottenuto il Goku Ultra Instinto subito. La Broly Animation nella seconda. Cioè, guarda, non c'è trucchia, non c'è inganno. Ma il telefono collegato, perché sennò poi magari qualcuno non ci crede. Roba da matti. Guarda qua, vabbè, vediamo di che si tratta. No, vai io, io non ero pronto a gasarmi così tanto già alle 8 di mattina. C'ho ancora gli occhi di sonno, mi sono fatto una lavata di faccia pochi minuti fa. Legends Limited! E abbiamo il vecchio Goku Ultra Instinto. Quindi vai io, i Goku Ultra Instinto me li sta buttando appresso uno dopo l'altro. Il gioco mi dice, bro, pigliate il, pigliate... Sei still? Vabbè, ci sta, ci sta. C'è Cattataville, pigliateveli proprio. E vabbè, ragazzi, ma vi devo dire la verità. Top! Un'altra... Cioè, due Legends Limited, due LF nel giro di due Summon. Ma io direi che questo anniversario non è che è partito alla grande. È strapartito alla grandissima. Vabbè, diciamo quindi, effettivamente i rate sono altini, eh. Io ho dato un'occhiata velocissima perché ho visto 20% in più di... Di cosoli, come si chiama? 20% in più per quanto riguarda le sparking. Ho visto che anche Goku Ultra Instinto era 0,500, quindi non era bassissimo il rate. Ma non... Cioè, non penso te lo danno alla prima... Alla prima Summon da 300, no? Veramente tantissima roba. Ti devo dire la verità... Anzi, vi devo dire la verità, ragazzi. Sono veramente contentissimo. Io non è che mi potrei quasi fermare qua. In realtà sì. Però a questo punto io vorrei qualche altra copia del Goku. Perché c'è la possibilità. Mi sono messo da parte con un reinstall. Sfruttiamoli. E poi, soprattutto, ragazzi, a questo punto mi voglio portare a casa pure il Vegeta. Cioè, voglio portarmi a casa, i due personaggi del banner, per stare proprio tranquillo, capì? E godermi al massimo questo anniversario. Io... Cioè, mi vedete fuori... Non so, fuori di testa, fuori completamente ogni logica. Perché trovarlo alla prima... Cioè, io potrei chiudere... Potevo chiudere il video dopo due minuti. Ma vi rendete con due minuti? Nemmeno, forse. L'ho trovato nel primo minuto e mezzo di video. Cioè, io credo sia record. Record totalissimo che... Che nessuno sia mai riuscito a fare. Poi, voglio dire, boh... Non ho idea. Però, talvolta, anche voi. Venite, mi mandate gli screen. Guarda, Joseph, ho trovato il personaggio nella singoletta. Tra l'altro, nella singoletta giornaliera... Io riuscì a trovare il Goku Ultra. Il Goku Blue Ultra. Quindi, purtroppo non riuscì a registrare. Perché erano quelle singolette che tu ti fai così... Senza registrare. No, off-screen. Guaiu, comunque so' troppo casato. Io so' ancora assonnato. Quindi, quando è successo? Io... Sto ancora cercando di elaborare quello che sta succedendo. Quindi, sì. Rates alla fine sono più alti. Ma non è che in tutte le summon ti esce roba spaziale. Come potete vedere... Cioè, vedete, questa è abbastanza vuota come summon. Quindi, non è che uno deve dare per scontato che... Si troverà sempre di tutte e di più qua. Mamma mia, voglio... Mi dovete credere. Da parte mia vuole parte un urlo ancora più forte. Ma, appena sveglio, confusissimo. Basta, non lo dico più, sta cosa dell'appena sveglio. E qui abbiamo lo step gratuito. Lo step... Della... Della... Brawl Animation gratuito, no. Vabbè, non esageriamo. 5 Space Pod. Ma siamo partiti alla grande... Eh, voglio, ma... Quando... Sapete come so fatto? Quando mi caso? Siamo partiti alla grandissima con il Goku Ultra Istinto. Poi... Seconda summon lì e c'era la Brawl Animation. Non ci voglio credere, voglio. Ma io lo devo mettere come titolo perché... Perché so che tutti voi impazzirete quando vedrete sta roba. Adesso potete dire, palesemente, Joseph Gamer, l'uomo più fortunato al mondo. Direi che a maggio slash giugno 2022 si può riportare in auge questa grandissima cosa. Mamma mia, ragazzi. Eh, vedete? Siamo partiti a razzo. Veramente non è che siamo partiti a razzo. Siamo partiti con uno Space Shuttle per arrivare dall'altra parte dell'universo. Però poi... Diciamo, l'atterraggio non è che sta andando un gran che. Perché la parte finale, come vedete, eh. Il primo... Questo è il primo giro completo, no? L'abbiamo fatto. Le sparking ci sono state. Te le ho buttate un po' appresso. Qui nel complesso... Va bene, va bene. Io sono contento. Cioè, per me, ripeto... Per me l'anniversario un altro po' poteva pure finire con i 300 Chrono Crystals. Però... Ho anche i video da fare in compagnia di tuberanza con Blazzi. Quindi vuol dire che... Devo andarci un po' avanti. Mi spenderò un buon numero di Chrono Crystals. Però vi dico assolutamente che... A un certo punto mi fermerò. Mi metterò da parte decine di migliaia di Chrono Crystals. Penso di fermarmi... Non so se riesco, eh. Però vorrei fermarmi a 30.000, 35.000. Me le tengo. Anche se potrei osare. Potrei osare cercando più Covid al Go Ultra Istinto. E non sarebbe male. Vediamo. Però comunque io andrò un pochettino avanti. Ripeto. Perché ho pure i video con tu Beblazzi. Quindi... C'è un po' di roba da fare. Voglio un po' di roba da fare. Sto Bardak me l'ha buttato appresso già due o tre volte. Attenzione! Sparking! Super Gogeta. Eh, ma io pensavo che... Con tutti quei raids alti... Ho detto, vabbè, qua arrivano personaggi buoni all'F una dopo l'altra. Invece no. Invece no. Come vedete qua abbiamo tutti i Sparking. Tutto... Fin troppo regolare. Mi ha fatto una partenza veramente assurda. Va bene. Sette stelle. Una a più. Va bene. Limit break. Va bene così, va bene così. Ovviamente ogni giro mi pare su 3.5. 3.500 Kronoristals. Quindi diciamo io qua dovrei finire sui 39.000. Più o meno, indicativamente, se mi faccio due giri completi. Va bene, va bene. Secondo me ci può stare. Mi lascio quei 9.000 per video con Tube Blazzi. E concludiamo. Sperando di riuscire a trovare il Vegeta. Poi vediamo, voglio, vediamo se mi faccio prendere un po' dell'entusiasmo. Attenzione, hold. Tengo e come. E poi rilascio. Vediamo un attimino, eh. Cioè, c'è anche Tube che mi scrive. Io ci sono. Già pronta alle 8.20 di mattina a registrare. Ma vi rendete conto che... Che... Cioè, prontissimo. Extreme topo che non avevo. Attenzione. Videl Hero, risparmiabilissima. Però abbiamo il Cell, prima forma. Va bene. Un razziatore, lui. Un razziatore. Che poi anche l'altro Cell era un razziatore. Però, diciamo, tra virgolette, si è fermato qua. Va bene, va bene. E... Sto accumulando anche un po' di... Di tutti questi gettoni che possiamo utilizzare dopo. Eh, attenzione, non ci dimentichiamo. Vediamo un attimino. Oh! 3 Space Pod. Eh, ma queste qua, vedete? Cioè, abbiamo fatto una partenza spazialissima. Io mi sono detto, vabbè, come siamo partiti? Io magari una seconda copia del Goku o il Vegeta del Banner lo porto a casa. Invece vedo che l'andazzo adesso è un po' diverso. Però, non mi lamento assolutamente. Va bene, così. Era... Ragazzi, io puntavo Goku. Credo come tutti. Però anche il Vegeta, ad una prima occhiata, mi è sembrato veramente tanta roba. E attenzione. Quindi hanno messo due PG interessanti. Un Super Saiyan Blue che non era quello che volevo. Una Vados. Un giaco. E poi, per concludere, un Saiyan... Ah no, ce ne sta ancora un'altra. Scuso. Un Frieza. È un'ottima occasione questa, in ogni caso, per portare a casa un po' di personaggi nuovi o, in generale, personaggi, portarli a stelle superiori, eh. Cinque stelle. Va bene. Mamma mia, why you? Io... Ma ancora non mi pare vero. Io ero sicurissimo qua di stare qua per mesi... No, mesi no, però stare qua settimane intere a buttarci Chrono Crystals. E invece nel giro di tre personaggi. Prima Salmon. Quella là da tre PG. Mamma mia, io non ci voglio credere. Sono contento. Dai, c'era la Kayle. Qua troviamo Android 18. Quella Kayle non ce l'avevo, comunque. Non male. Cell. Va benissimo. Goku Extreme. Mmm, qua addirittura manca le Sparking. Pur se sui rate più alti... Manca le Sparking e ti butta presso il gioco. Cioè, qua proprio il gioco dormiente a un certo punto. Ho detto, no, basta, abbiamo dato la grande all'inizio. Mova, accontentati, perché poi non è che possiamo esagerare. E questo è l'andazzo, in pratica. Ok. Limit Break. Va benissimo. Quanto mi resta per concludere in generale il tutto? Lui va addirittura a sette stelle e più. Ah, devo fare direttamente lo step sesto. Quindi quello gratuito. Quindi, come avete visto, video abbastanza chill, tranquillo. Due giri completi. Il Goku Ultra Instinto portato a casa. E che vogliamo di più? Non è che... Cioè, è bello proprio liscio come l'olio. Però quel Vegeta mo mi sta facendo, come dire... Mi sta facendo un po' indispettire. Perché il Goku Ultra Instinto buttato così e poi il Vegeta pare che si fa vedere. Non va bene. E non ci siamo. E che si fa? Quindi lo cercherò. Lo cercherò. Perché lo desidero. Vediamo un attimino. Metal Cooler. Va bene. C'è Nihil. Bello carico. Bello tranquillo. Una fascia. Android numero 16. Io direi che per oggi, ragazzi, il gioco ci ha dato abbastanza. Ci ha accontentati. E mo' si parla di altri video. Qua credo che non mi darà assolutamente nient'altro di... Di rilevante da un punto di vista di anniversario, chiaramente. E noi concludiamo assolutamente qua. Ma aspetta un attimo. Mi devo fare la sesta gratuita ancora qua? Ma com'è? Ma me ne ero... Ma che? Fuori di testa. Convintissimo l'avessi fatta. Vabbè, ragazzi. Eccola qua. Ma roba da matti veramente. Sicurissimo che me l'ero portata a casa. Cioè, ragazzi, vedete? L'entusiasmo che sta finalmente iniziando a... A carburare. Pensavo di averla... Di averla fatta. Va bene, va bene. Così confuso da colpirmi da solo. Va benissimo. E dammi un po' di cosucce. Dammi il Vegeta. E chiudiamola. Se mi dai il Vegeta, chiudiamo tutto. Eh, cioè, ci togliamo proprio il pensiero. Un Gogeta... Ho detto Vegeta, no Gogeta. E non ti confondere. È gioco. Capisco che è presto la mattina, però... È presto fino a un certo punto. Scusa. Va bene. Pan. Pan Extreme. Giaco. Eh, ma qua... Non la vedo... Non la vedo consistente. Vediamo ancora un razziatore. Non la vedo sconfinferante questa... Questa summon. Per noi credo si sia concluso qua. Ma comunque, attenzione. Attenzione. Primi tutti. Ci abbiamo preso il... Il ticket, là, eh. Eccolo qua. Single summon per noi. Partito da 46.000 e qualcosina. Prono Crystals. Mo' sto, mi pare, era a 39.000, più o meno. Non male, non male. Secondo me nel complesso ci può stare. Nel complesso... Cioè, non è che ci può stare. Nel complesso va benissimo. Però, siccome... Cioè, volevo strafare adesso. Capito? Io volevo far proprio portarmi a casa in un solo video, in due giri, anche il Vegeta. Ma... Lasciamo... Lasciamo fare. Lasciamo fare al gioco perché credo mi possa accontentare. Vabbè. Omega Sharon. Che avevo... Eh, infatti, avevo già, mi pare, quasi al massimo. 7 stelle e più. E ci togliamo il pensiero. Io vi ringrazio per essere stati oggi qua con me, ragazzuoli. Eccolo qua. Il Goku Ultra Istinto. Che... Non mi ha fatto per niente penare. È uscito subito. Quindi, veramente, top. Sono molto, molto contento e chiaramente auguro anche a voi la stessa fortuna. Se non meglio. Beh, meglio non so se si può fare. Però auguro anche a voi la stessa fortuna. Fatemi sapere se poi siete riusciti a trovarlo. Io vi do un bacione. Ci becchiamo al prossimo video con Tube Blazzi. Alla prossima. Ciao.